Con Jacopo Valentini a commentare la seconda vittoria consecutiva della Fiorentina Basket è anche la prima volta che abbiamo modo di parlarti insomma, prima di tutto come stai, come stai andando è bello comunque aver trovato questa vittoria che vi dà tanta più fiducia Innanzitutto sto bene, grazie più che altro quando sono venuto qua pensavo, vedendo la classifica, vedendo da fuori la situazione che era una situazione un po' così invece poi quando sono arrivato Antonio, Stefano, oltre ad avermi accolto tutti veramente bene anche il Presidente, mi hanno spiegato che ci sono state grosse difficoltà all'inizio per creare la squadra, anche gli orari di allenamento e tutto e col Passaregioni invece ho notato che è un gruppo di ragazzi veri di persone che si allenano veramente forte dalle quali si può, come abbiamo dimostrato oggi, anzi anche la scorsa partita dalle quali si può prendere veramente qualcosa di importante, questo è stato ci siamo divertiti anche perché comunque abbiamo veramente, secondo me a tratti abbiamo giocato anche una buona palla a calestro perché alle volte sai in B2 tante legnate vie, invece ci siamo passati la palla, abbiamo giocato, abbiamo difeso forte siamo un po' immaturi perché comunque io sono il più giovane, ho 29 anni il primo che dice che è vecchio, lo massacro no, oltre a questo c'è, quindi io credo che questa squadra possa avere dei grossi margini di miglioramento Senti, partita oggi dove vi siete sbloccati nel secondo tempo, dove anche Momo è entrato più in ritmo te sei stata abbastanza costante, però la sensazione è che tu possa ancora dare molto di più a questa squadra Io sono arrivato da una situazione mia abbastanza particolare, dunque come ho parlato con Stefano gli ho detto guarda io sono allenato eccetera eccetera, però tra serie di Wisp eccetera eccetera i miei ritmi partita erano ovviamente un pochino diversi Sì, sì, però sì sì io sono convinto, ma io penso che da quando sono arrivato qui ho visto alcune persone che erano un pochino demotivate perché a me è capitato di stare in contesti nei quali non si vince e non è facile reagire, quindi per quel poco che è la mia esperienza ho cercato anche di portare un pochino di entusiasmo di aggressività, di instintità, un pochino di rottore di palle che so che do agli altri, però lo faccio con amore veramente Senti, Saliero ha usato per te parole abbastanza importanti, ha detto insieme a Turia che la Fiorentina ha trovato un altro leader un altro giocatore di riferimento, ti senti un po' nonostante tu sia arrivato da così poco di avere questa responsabilità addosso di essere un giocatore molto importante per questa squadra Ma ero ubriaco, l'ha detto seriamente No, era serissimo No, quando sono arrivato qua onestamente alcune cose me le hanno fatte presente sia Stefano che Antonio ma leader, nel senso io ovviamente avendo una carriera più lunga rispetto a quelle degli altri che sono tutti giovani e possono migliorare, posso portare quella che è la mia esperienza dunque, relativo penso che comunque ripeto, un gruppo di persone che si allena forte con Stefano ci si allena veramente forte e questo mi fa piacere perché quando ho visto la situazione in classifica, ringraziando Dio conoscevo Stefano ma ho pensato sai magari è una situazione un pacchino particolare eccetera eccetera, invece no L'ultima cosa, terza vittoria nelle ultime quattro partite, la seconda consecutiva vedi anche la possibilità di, attenzione alle tue spalle vedi anche la possibilità di non fare questi play-out oppure pensate a partita dopo la partita a volte vedo Marui e Carli che fanno un bacio, da dietro mi tocca non sanno che sta rischiando la vita no, io onestamente, ripeto per come è stata costruita la squadra di ritardo ovviamente per problematiche che sapete meglio di me anzi voglio fare complimenti a Antonio che si è sobbarcato parecchie responsabilità al presidente eccetera 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 e a Stefano che in poco tempo è riuscito comunque a trasformare quattro ragazzi in persone che sanno stare in campo e secondo me oggi abbiamo dimostrato di stare in campo anche bene paghiamo un po' di inesperienza eccetera eccetera perché abbiamo fatto dei parziali buoni e poi li abbiamo ripresi subito per il resto, qual'era la domanda? play-out play-out oppure no, magari con la crescita di tutti guardate anche a non farli questi play-out la classifica parla chiaro adesso, insomma siete lì attaccati a quelle lì ma guarda io onestamente personalmente non faccio neanche un discorso di questo tipo neanche a Stefano, qui c'è solo da migliorare e giorno per giorno perché non possiamo neanche guardare in prospettiva quello che è la società che è stata creata da poco le cose vanno prese giorno per giorno per quelle che sono onestamente da quando io sono qua non ho visto una persona che si è tirata indietro una persona che non ha dimostrato di volerci stare e di volerci stare in una certa maniera dunque play-off non play-off è difficile dirlo ora andiamo avanti, vediamo, continuiamo a migliorare speriamo di continuare in questa maniera qua perché devo essere onesto è un gruppo che si allena veramente forte con l'edizione quindi questo è importante